Stamattina vogliamo tornare a parlare, come dicevo anche nell'anteprima, di un evento catastrofico. Lo abbiamo già fatto negli scorsi mesi che è avvenuto tra la Turchia e la Siria nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Un terremoto di proporzioni davvero in mani che ha causato al momento, perché purtroppo il conteggio delle vittime non è ancora terminato, 57.700 morti. E allora vogliamo tornare idealmente in Turchia e in Siria per vedere a distanza di qualche mese se la situazione ha subito dei miglioramenti dal punto di vista non solo umanitario, ma anche riprendendo in considerazione numerosi altri aspetti. Lo facciamo con Laura Stopponi di Caritas Italia, a cui do il benvenuto. È collegata con noi tramite Skype. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Grazie per essere con noi, Laura. Dunque, qualche mese fa, ricorderai, abbiamo grattato un po' la superficie di quelle che erano anche le prime notizie che arrivavano qui in Italia di questo terremoto così disastroso. Ora, nei giorni scorsi, tu insieme ad altre persone ti sei recata in Turchia, tra la Turchia e la Siria, per constatare con mano ciò che è realmente accaduto. E allora ti chiederei di farci un breve resoconto di questa visita. Grazie, grazie per questa opportunità. Beh, la visita ci ha fatto rendere conto che la situazione è ancora molto difficile, molto, molto difficile, perché la dimensione del disastro è molto più grande di quello che noi ci possiamo immaginare. Cioè, a distanza di sei mesi, praticamente dalla città, noi siamo arrivati a Iskenderun, che è una delle città più colpite, e abbiamo viaggiato fino ad Antiochia. Una città che è praticamente totalmente distrutta, al 70%, case, diciamo, già distrutte, case che devono essere demolite in quanto inagibili. E la cosa impressionante è che, da una parte, c'è una quantità enorme di macerie che devono essere smaltite, dall'altra c'è una quantità enorme di edifici che ancora devono essere demoliti, edifici, a volte anche nuovi, appena costruiti, palazzi di 15-16 piani che devono essere buttati giù. Quindi, un lavoro enorme. Dall'altra, quello che più stringe il cuore è anche vedere queste distese di campi, campi formali e informali, campi formati da contenere, campi formati da tende, organizzati dallo Stato, ma anche tanti campi che i cittadini stessi hanno messo in piedi vicino alle loro case inagibili. E quindi campi che, a queste temperature, quando noi eravamo lì, abbiamo registrato temperature tra 44 e 45 gradi. Immaginate, all'interno di queste tende, distese, diciamo, centinaia di tende in situazioni totalmente assolate, quindi con un caldo infernale, dove dentro ci sono famiglie, famiglie, famiglie. Quindi c'è un enorme numero di persone sfollate che per anni vivranno in quelle tende. Ecco, questa è la cosa che più veramente ci ha fatto rendere conto di quanto lavoro ci aspetta e quanto lavoro ci sarà da fare per permettere a queste persone per tornare a una vita normale. È una situazione che è ben lungi, dunque, dall'essere risolta, anche perché, come dicevo prima, il conteggio delle vittime è un continuo aggiornamento, perché purtroppo ovviamente tanti dispersi non sono stati trovati, perché appunto sotto le macerie di questi palazzi enormi che non sono ancora stati, per certi versi, liberati anche con le macerie che occupano e creano anche un danno ambientale. Dunque ai danni del terremoto, potremmo dire, si aggiungono anche dei danni postumi che in qualche maniera andranno ad intaccare quella che è la salute delle persone. Noi abbiamo anche raccontato di quello che è stato l'impegno di Caritas Italiana, il primissimo impegno per fronteggiare immediatamente questo evento in raccordo anche con le varie Caritas degli altri paesi europei e quelle presenti in loco. A questo punto ti chiederei com'è la situazione dal punto di vista umanitario? Tu ci hai già raccontato qualcosa. Beh, la situazione è difficile, è difficile nel senso che per quanto il governo stia facendo, ecco non possiamo dire, i numeri sono elevatissimi, c'è tutto un lavoro poi sommerso che va fatto oltre alla fornitura diciamo di aiuti alimentari. Noi abbiamo incontrato, e devo dire questo è il lato positivo di questa visita, abbiamo incontrato diversi giovani, una ragazza di 23 anni sotto la famiglia che ha chiesto aiuto alla Caritas per avere delle macchine da cuscire e ha ricostituito un laboratorio dove dà lavoro alle donne del campo. Però lei stessa ci diceva, non sa, ogni giorno deve capire quante donne vengano a lavorare perché molte di loro, prese naturalmente dalla depressione, dalla paura, la mattina non riescono ad alzarsi dalla branda, diciamo non tanto dal letto. Per cui tutto il tema del supporto psicosociale è una delle azioni più urgenti da poter fare perché le persone sono in grave depressione, nel senso che spesso sono migranti che sono arrivati, che avevano trovato una sistemazione, che erano riusciti ad avere una casa, che avevano un lavoro che improvvisamente sono ritrovati al punto di partenza, senza nulla, senza un lavoro, senza una casa, e dover ricominciare da capo. Quindi cittadini turchi, cittadini migranti, migranti irregolari che si trovano in una situazione ancora peggiore di quelle che erano. Quindi dal punto di vista umanitario c'è veramente tanto da fare. C'è il rovescio della medaglia che abbiamo incontrato diversi ragazzi, soprattutto ragazzi giovani, ragazze e ragazzi, con grande voglia di fare, di mettersi a disposizione della propria comunità. E questo è uno dei nostri obiettivi, quello di riuscire a conoscere queste persone, metterle in rete e darle una mano affinché loro stessi possono aiutare la loro comunità. Io credo sia anche importante, Laura, non diminuire l'attenzione. Ecco, anche lo scopo di questo incontro virtuale nel corso del nostro programma vuole anche essere un segno di attenzione a queste popolazioni che sono state duramente colpite dal terremoto, perché troppo spesso le notizie della prima ora poi cadono immediatamente nel dimenticatoio. Invece poi capiamo, e lo capiamo anche dalle tue parole, che ci sono delle vite dietro, che hanno bisogno di essere risollevate, è una situazione che ha bisogno di svoltare a 360 gradi. Raccontavamo dell'impegno di Caritas Italia. Io, se c'è un termine, un aggettivo che mi ha colpito per qualificare questo impegno, direi che è la discrezione, che è anche poi quello che ritorna nelle varie interviste che sono state fatte a seguito di questa visita così importante. Discrezione, perché non si vuole entrare, come si suol dire, a gambatesa all'interno anche delle tragedie per provare anche in qualche modo a far vedere chi magari è più forte, ma accompagnare anche le varie istituzioni presenti sul territorio offrendo anche quelle che sono le competenze. Credo che questa sia una nostra caratteristica, una caratteristica italiana in generale, permettimi. Assolutamente sì. L'obiettivo è quello di andare a cercarci le persone più povere, le persone che hanno più bisogno. E il lavoro prezioso che i colleghi stanno facendo sul territorio è proprio quello. Andare campo per campo, luogo per luogo, gruppo di tende per gruppo di tende per capire quali di questi luoghi siano più abbandonati o non siano serviti sufficientemente o abbiano dei bisogni particolari o ci siano delle famiglie più vulnerabili. Questo lavoro prezioso di mappatura va di pari passo poi a un lavoro di progettazione, nel senso di provare a fornire quelli che sono i bisogni più essenziali. Ancora siamo alla costituzione di cucine da campo, di fornitura di acqua potabile. Abbiamo acquisito una serie di purificatori d'acqua, condizionatori, ventilatori, perché sono quelle cose che servono in questo momento. Ancora non si può parlare di ricostruzione, siamo ancora nella fase emergenziale di aiuto. Dall'altra c'è anche già il pensiero di dire che queste persone hanno voglia di tornare a lavorare e quindi provare a capire che tipo di lavoro, che tipo di aiuto possiamo dare loro per provare a farli ripartire, perché se non hanno un lavoro dipenderanno sempre dagli aiuti umanitari. E quindi come fare? Ecco, questo è un lavoro fatto da tante persone, uomini e donne, volontari, operatori, che stanno in questo momento andando in giro per cercare di capire, di conoscere, di ascoltare le persone, capire quali siano i loro bisogni e programmare contemporaneamente in modo tale da dare loro una risposta il più vicino a quello che sono i reali bisogni delle persone. Allora, l'impegno di Caritas è totale, potremmo dire. Visto che siamo in conclusione, allora Laura vorrei chiederti di ribadire anche ai nostri amici telespettatori e a quelli che ci seguiranno, poi anche attraverso i social, quali sono le modalità per continuare ad aiutare, visto che abbiamo capito siamo all'anno zero praticamente di questa emergenza. Allora, se c'è bisogno di aiuto, i nostri amici come possono fare? Posso andare sul sito di Caritas Italiana, sul sito di Caritas Italiana ci sarà aiuta, come puoi aiutare, dona ora, c'è la possibilità di fare un bonifico bancario, di pagare con un bollettino postale, quindi troverete tutte le indicazioni per poter fare, per darci un aiuto. C'è veramente bisogno di un grande aiuto perché ancora c'è tantissimo da fare e noi abbiamo immaginato che per i prossimi 4-5 anni dovremo stare lì perché il disastro è veramente grande. E questo riguarda non solo la Turchia ma anche la Siria. Certo. Dunque, io allora ti ringrazio Laura per essere stata con noi, per averci raccontato questi progressi, se così li possiamo chiamare, ma comunque è già un punto di partenza rispetto alla situazione gravissima che raccontavamo qualche mese fa e che adesso comincia pian piano a muoversi verso una fase non di ricostruzione ma almeno di parbenza, chiamiamola così, di normalità. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata a te. Ringraziamo Laura Stopponi di Caritas Italia. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme.